Sabato primo giugno sono a Modena alla manifestazione Modena Pride, un fiume di persone è sceso per le strade modenesi a manifestare per i diritti civili, voi per cosa manifestate? Tutto in generale, in realtà, antifascismo, contro l'omofobia, qualsiasi cosa. L'odio fa schifo, basta odio. Perché oggi è importante parlare di diritti civili secondo voi? Perché deve essere così, è così. Deve essere così per tutti, tutti hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, ma anche gli stessi diritti. L'amore è uguale per tutti. Come si esprime la sessualità oggi? Ognuno è libero? Ci sono ancora delle... Come si esprime? C'è libertà oppure si torna indietro? Sì, si sta tornando indietro, ma io sono fiduciosa. Siamo tutti fiduciosi, tutta questa gente direi che lo è. Perché serve, perché è importante, perché noi non abbiamo gli stessi diritti che hanno le persone eterocisti in Italia. Nel 2019 c'è ancora bisogno di fare queste manifestazioni. Anche per te? Sì, io penso tutto quello che hai detto, perché in questo momento, soprattutto in questo momento, la politica italiana ci sta praticamente dimenticando. Quindi i Pride sono sempre più importanti. Ci sono dei DJ che suonano sopra i carri del Modena Pride. È animazione, è coreografia. Ecco, vedete. E poi le persone ballano dietro i carri. Per cosa stai manifestando? Per i diritti gay. Quali sono questi diritti? La libertà di amare e di poter fare qualcosa di più legale per noi stessi. Si giudica troppo. Ci si crede di essere superiori ad altri solo perché sia privilegiati e non ci se ne renderemmeno conto. Bisognerebbe tutti volersi bene, supportare l'amore, che è sempre bello, soprattutto in questo periodo dove l'odio prevale. Supportare l'amore in ogni forma dovrebbe essere la priorità, secondo me. Cosa rispondi a chi stamattina ha fatto la processione riparatrice? Io sono credente ma è stata davvero un'appracciata. Riparatrice, non c'è niente da riparare. Queste persone si vogliono bene, siamo qui che balliamo, cantiamo, non c'è niente da riparare, secondo me. Perché credo che siano dei diritti giusti quelli che sono stati conquistati fino a questo momento dall'umanità e purtroppo nell'ultimo periodo succedono troppe disgrazie e queste conquiste vengono come in un certo modo annebbiate. Perché penso che veramente ognuno abbia il diritto di amare chi vuole, cioè questo non dovrebbe neanche essere messo in discussione, però siccome ultimamente ci sono diciamo dei rigurgiti un po' preoccupanti, secondo me in questo momento storico è più che mai doveroso venire a manifestare. Modena Pride, per cosa state manifestando? Beh, soprattutto per la nostra felicità e per quella degli altri. Tutto qua. Ecco, c'è tanta gente, manifestazione molto partecipata. Sì, molto, molto più di quello che speravamo. È veramente molto bella. Stiamo manifestando per l'amore, l'amore di tutti, in qualsiasi forma e in qualsiasi genere, donna con donna, uomo con uomo. Perché oggi è importante manifestare su questi argomenti, su questi temi? È importante perché credo che al giorno d'oggi sia un diritto per tutti amarsi senza avere limitazioni. Quindi gli stessi diritti devono essere garantiti per tutte le coppie. Secondo me, al di là di quello che può essere qualunque cosa politica, è un discorso di umano, di umanità. Basta, per me è così. Io sono etero, ma sono qui. Sono dietro un altro carro qui al Modena Pride. Ve lo faccio vedere da vicino. Sopra sta suonando il DJ, ha una console con un impianto. Dietro i carri ci sono gruppi di ragazzi, ragazze che ballano, tipo come una coreografia. E niente, si balla. Ecco, perché siete qua a manifestare? Perché abbiamo trovato un'amica e non si sente, ma crediamo che tutti siamo uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti. Ma perché oggi si parla di diritti civili? Perché oggi è tornato così attuale questo argomento? Assolutamente, perché tutti siamo esseri umani e tutti dobbiamo avere gli stessi diritti, assolutamente. Per cosa stai manifestando? Io sono a favore, non lo so per cosa sto manifestando, io sono qua per fare supporto morale in realtà all'amica della Rosa. Vado nella Pride, la manifestazione? Sì, sì. Per i diritti? Degli omosessuali, delle lesbiche. Non sono mai stato intervistato, quindi mi fa strano, cioè sto anche camminando. Io manifesto, in realtà sono venuto qua non per un motivo particolare, però comunque per me sono molto importanti i diritti civili, i diritti sociali e quindi sono venuto qua, diciamo, più per curiosità che per una manifestazione in particolare. No, noi siamo qua perché io sono un po' negli omosessuali, perché così per i diritti civili comunque di ogni uomo è giusto questa cosa qua per me. No, noi vanno tutti gli anni, quindi ci piace, ci divertiamo, siamo aperti a tutti. Non è vero allora che ci sono solo omosessuali? Ci sono tante persone che manifestano? Io ho tante amiche lesbiche, gay e poi comunque qua ci si diverte, ci sta. È una grande festa. Perfetto, infatti. Per cosa state manifestando? Per i diritti LGBT. Sì, noi vorremmo poter avere il matrimonio, l'adozione e tutte le cose che hanno le persone etero. Siamo in Italia e siamo indietro, troppo. Perché oggi si parla sempre più spesso di diritti civili? Perché siamo esseri umani anche noi, se ci informiamo bene l'omosessualità è uscita dal DSM-5, non è più una malattia, abbiamo bisogno di diritti anche noi, paritari. Nella vostra vita che difficoltà incontrate quando si parla di questi argomenti? Quanto hai tempo, diciamo? Quanto vuoi? Ma guarda, per esempio, quello che mi viene in mente è io da persona trans, adesso c'è il problema dei farmaci per le persone trans che non si trovano perché hanno smesso la produzione. E questo è un grave problema perché per me è un farmaco salvavita il testosterone e non posso più prendere, ho dovuto cambiare terapia e tutto quanto. E questo è un grave problema perché appunto si tratta della mia identità. Il fatto che non possiamo adottare bambini e un sacco di altre cose. Il problema sul farmaco è anche che è un problema che c'è da mesi però non ne ha parlato mai nessuno praticamente, se non all'interno della comunità. E oltre, diciamo, questo argomento dei farmaci, sentite sempre della resistenza quando si parla di, non so, di diritti che riguardano gli omosessuali, diritto come magari... A voglia. La cosa più triste è sentire questa opposizione dalle istituzioni, dalle persone che stanno al governo e da appunto coloro che in teoria dovrebbero garantire la protezione di tutti i cittadini e non dei cittadini che fanno comodo a loro. Cioè, giusto riguardo questo Pride è stato, era Fontana che ha detto che appoggiava la manifestazione contro, cioè la contro manifestazione, la manifestazione di riparazione, no? Come se ci fosse qualcosa da riparare, primo. Secondo, è triste che un ministro incoraggi una cosa del genere. È davvero triste perché oltre a diffondere odio diffonde anche disinformazione. Insomma, siamo uno stato laico per cui, voglio dire, non ci stava come cosa. Il mio servizio dal Modena Pride finisce qui, grazie per aver visto questo video.